E' di nuovo in onda con l'ultima parte della nostra rassegna pomeridiana, qualche titolo dall'interno del messaggero ostia ritorale, il primo riguarda Ardea, un incontro che si terrà questa sera, periferie nel degrado, sale la protesta, scrive Salsano in programma questa sera alle 21, nelle sale del ristorante stabilimento Menè in via delle Aquile a Tor San Lorenzo, il secondo incontro di Salviamo il nostro territorio a cura del comitato di quartiere Nuova California, del comitato civico Tor San Lorenzo e delle associazioni Artù e Ardea Libera. Sul tavolo le questioni legate alla sicurezza e al degrado del territorio in vista di una manifestazione di piazza che coinvolgerà anche i commercianti e le scuole in programma a marzo. La precedente riunione con le associazioni commercianti e cittadini, spiega Piero D'Angeli, presidente del CDQ Nuova California, ha segnato un importante punto di partenza per il nostro territorio. Insieme vogliamo lavorare sia per portare all'attenzione di chi di dovere i problemi di Tor San Lorenzo, sia per progettare in comune azioni per il bene della nostra città. Andiamo velocemente anche all'interno del quotidiano di Latina dove troviamo un'altra notizia da Ardea. Comune in ginocchio l'affondo del PD, prima il Pinocchio Eufemia e adesso Capitan Schettino di Fiori non ha usato mezzi termini il Partito Democratico di Ardea che nella giornata di ieri ha tappezzato la città rutola con dei volantini contro l'amministrazione comunale. Queste due amministrazioni, si legge, hanno messo in ginocchio il nostro Comune, la raccolta di rifiuti è passata da 4 a 9 milioni, ma le strade continuano ad essere invase dai rifiuti. Il Sindaco e parte della Giunta hanno ricevuto avvisi di garanzia per reati di corruzione e concussione, un Sindaco che si è dimenticato dei nuclei abusivi che ha portato al collasso economico il Comune con debito fuori bilancio di 10 milioni di euro. Sindaco Dimettiti, queste le parole forti che avevano l'obiettivo di pubblicizzare tre incontri già fissati dal PD locale il 31 gennaio 6 e 13 febbraio a Nuova Florida, Ardea e Montagnano per una raccolta firme da inviare al prefetto di Roma Pecoraro e al presidente del Consiglio Matteo Renzi. La contromossa dell'amministrazione è stata immediata, multe agli autori del manifesto che è stato affisso sulle campane del vetro presenti in città e su molti muri sia del centro che della periferia. Da Ardea ci spostiamo Giulia Pomezia con una notizia che riguarda anche l'ambiente. Sì, riguarda anche l'ambiente perché c'è la prima auto elettrica nell'autoparco comunale appunto di Pomezia, mobilità a zero emissioni di questo parliamo. Si è conclusa quest'oggi questa mattina la cerimonia di consegna dell'auto elettrica donata al comune di Pomezia da parte delle aziende Cepitas, CIS Sud, Ecosystem, Laziale Distribuzione e Redbox. All'evento che si è svolto a Torvaianica in Piazza Ungheria è intervenuto il sindaco Fucci di cui sentiamo le parole riguardo proprio a questa vettura e soprattutto all'importanza che un tipo di vettura del genere ha per l'impatto ambientale. Sentiamo allora il sindaco di Pomezia. Il progetto ha riscosso fin dal principio un grande entusiasmo da parte delle aziende tant'è che queste cinque aziende del territorio hanno inteso collaborare attivamente con il comune di Pomezia quindi diciamo che al di là delle formalità burocratiche che comunque hanno preso il loro tempo relativo siamo riusciti in tempi rapidissimi a collaborare intanto con Enel e Deni dal punto di vista infrastrutturale. Oggi quattro colonnine di ricarica per veicoli elettrici già insistono sul territorio comunale, un altro per ricarica rapida sarà inaugurato tra pochi giorni. Le aziende del territorio hanno fatto la loro parte quindi potenziando il loro parco mezzi aziendale introducendo queste vetture elettriche e oggi diciamo così hanno inteso donare una vettura elettrica al comune di Pomezia proprio a coronamento di questa collaborazione che è iniziata diciamo questo è solo un inizio proseguirà nei prossimi mesi e nei prossimi anni con altre forme di collaborazione su progetti anche orientati al sociale quindi dal punto di vista ambientale come abbiamo dimostrato fino ad oggi ma anche orientati al sociale quindi da parte del comune di Pomezia c'è la volontà di proseguire questa collaborazione con le aziende del territorio che hanno il desiderio di fare la loro parte attiva. Stiamo già iniziando ad ipotizzare delle iniziative di sostegno a diciamo così persone che vivono condizioni di disagio e quindi potrebbero esserci altre collaborazioni orientate più al sociale appunto al sostegno di categorie che oggi magari sono in sofferenza quindi su questo noi abbiamo iniziato un confronto poi si concretizzerà ovviamente nei prossimi mesi ma l'elemento positivo è che le aziende rispondono bene hanno il desiderio di fare la loro parte sul territorio del comune di Pomezia è stato detto bene prima dal presidente del consorzio Tubi Green che ha voluto ribadire il concetto che a Pomezia loro vogliono restare vogliono fare la loro parte attiva amano questa città e hanno il desiderio di dare il loro contributo quindi questo non può che farci piacere. Pomezia ha sviluppato con il tempo tutta una serie di iniziative orientate proprio alla riduzione delle emissioni di CO2 quindi dall'installazione di pannelli fotovoltaici sulle scuole all'installazione di illuminazione a led che copre oggi quasi la totalità del territorio del comune di Pomezia. Oggi iniziamo con questa parte infrastrutturale dedicata alla mobilità elettrica abbiamo in previsione la piantumazione di altri alberi e arbusti che possano andare a dare respiro anche alla città e accompagnata anche alla sistemazione delle aree verdi che insistono in città quindi tutta una serie di iniziative orientate alla tutela ambientale e anche dal potenziamento della cultura ambientale. Ci sono soggetti nel territorio comunale in questo caso delle aziende quindi che ovviamente hanno il loro interesse primario nell'attività imprenditoriale che però ci ha visto legati da un obiettivo comune che è quello della tutela ambientale quindi fortunatamente questa sensibilità che noi abbiamo riscontrato nelle aziende è la stessa che muove la nostra amministrazione. È stato bello, molto bello vedere come evidentemente diciamo così le aziende del territorio hanno riconosciuto in noi la serietà nel portare avanti questo tipo di progetti e quindi hanno voluto accompagnarci in questo percorso ma non passivamente, accompagnarci diciamo sotto un profilo attivo facendo delle proposte quindi c'è una certa vivacità che ci ha fatto molto piacere e che ci fa ovviamente ben sperare per il futuro. E di futuro ma anche di come si è arrivati a questa giornata di presentazione dell'auto elettrica ne ha parlato anche l'assessore Veronica Filippone che stiamo appunto per ascoltare intanto vi ringraziamo per la cortese attenzione e vediamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Allora questa è Veronica Filippone assessore del comune di Pomezia e con questo vi salutiamo. Arrivederci. E' iniziato tutto all'incirca un anno fa. Siamo stati contattati direttamente dall'Enel perché Enel aveva aderito ad un progetto per la mobilità alternativa, in particolar modo la mobilità legata alla mobilità elettrica. Abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa con Enel e Eni in questo caso pure. In questo protocollo d'intesa il comune di Pomezia ha sottoscritto un impegno nel promuovere la mobilità alternativa su tutto il territorio comunale insieme alla collaborazione di Enel ed Eni grazie alla costituzione di una nuova piattaforma per ricaricare le auto in maniera più veloce e nello stesso tempo l'installazione di quattro colonine di ricarica più lenta sul territorio comunale. Le colonine già sono state, quelle a ricarica lenta, sono già state installate sul territorio comunale. Una è qui a Torvajanica dove ci troviamo in questo momento, una presso il Piazza Indipendenza a Pomezia, una presso il Centro Commerciale 16 Pini e un'altra in Via dei Castelli Romani. Molte persone già stanno soffruendo di queste colonine elettriche perché il tema è molto sensibile qui a Pomezia, tant'è vero che abbiamo esteso questo invito che è partito da Enel a tutte le aziende, le grandi aziende di Pomezia. Abbiamo mandato una lettera, una mail di invito per poter parlare insieme a loro di questo progetto per sviluppare la mobilità elettrica a Pomezia anche con queste aziende. Lo abbiamo fatto, abbiamo avuto diversi incontri con loro, diverse proposte da parte delle aziende e siamo arrivati alla conclusione che cinque aziende del territorio comunale si sono rese disponibili per aiutare a promuovere la mobilità elettrica acquistando loro stesse un'auto, un'auto elettrica da aggiungere al loro parco comunale e nello stesso tempo si sono riunite in un'associazione che presto formalizzeranno e hanno donato un'auto elettrica al comune di Pomezia. Questa è stata una grande vittoria per il comune di Pomezia sia perché è riuscito ad avere un contatto diretto con le aziende di Pomezia che possono dare tanto all'amministrazione ma a tutti i cittadini e sia per il fatto che un'altra auto nel parco comunale del comune di Pomezia sicuramente è d'aiuto sia per controllare il territorio sia per svolgere determinati servizi che un'amministrazione deve fare quotidianamente. In occasione dell'installazione delle quattro colonie elettriche abbiamo esteso l'invito dell'evento a varie associazioni che sono interessate alla mobilità alternativa. Abbiamo contattato un ragazzo che gira per il mondo con un tandem elettrico e presto faremo anche con lui una serie di iniziative e volte proprio a promuovere la mobilità elettrica. Questo è soltanto uno dei tanti eventi che l'amministrazione comunale è intenzionata a fare. Faremo un programma ogni due mesi all'incirca verrà organizzato un evento e già sul sito istituzionale del comune di Pomezia è presente una sezione dedicata alla mobilità elettrica dove ovviamente verranno aggiornati tutti gli eventi fatti che si faranno in futuro.